Pace di Cristo a tutti, sono la sorella Giovanna Valenti da Marsala, gloria al nome del Signore e ringrazio il Signore che anche oggi il Signore mi ha dato un soggetto da condividere con tutti voi, gloria a Dio. E riguarda il perdono e l'importanza di esercitare il perdono, soggetto molto importante e scottante come vediamo in seguito. Voglio iniziare ci tanto con la preghiera del Padre Nostro in Matteo 6, dove tratta questo argomento nel verso 12 dice rimetti i nostri debiti come ancora noi li rimettiamo ai nostri debitori. In questa preghiera c'è una promessa che noi facciamo a Dio in risposta al suo perdono nei nostri confronti, cioè che noi perdoniamo i nostri debitori. Noi sappiamo che Lui è fedele con noi e Lui ci perdona veramente se noi chiediamo con sottomissione e con vendimento, ma noi siamo fedeli a Lui, cioè perdoniamo a nostra volta. Perché nel versetto 14 e 15 sta scritto Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il Padre vostro Celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro Celeste perdonerà le vostre. Gloria al nome del Signore. Se noi non siamo fedeli e perdoniamo, allora dicevo, se non perdoniamo sarà compromesso anche il nostro perdono da parte di Dio. Gloria al nome del Signore. E dopo questa promessa vorrei leggere una scrittura in secondo Samuele 16, 5 a 14, a sostegno appunto del perdonare per essere perdonati. Il Signore sia lodato. Quando il re Davide giunse a Barium, ecco uscire di là un uomo della stessa parentena della casa di Saulo, di nome Scimei, figlio di Ghera. Egli usciva proferendo maledizione e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di valore stavano alla destra e alla sinistra del re. Mentre malediceva, Scimei diceva, vattene, vattene, uomo sanguinario, uomo scellerato. L'Eterno ha fatto ritornare su di te il sangue della casa di Saulo, al posto del quale tu hai regnato, e l'Eterno ha dato il regno nelle mani di Absalom, tuo figliolo, ed eccoti ora preso nella tua stessa malvagità perché sei un uomo sanguinario. Allora abisai, figliolo di Terushia. Disse a re, perché questo cane morto deve maledire il re mio signore? Ti prego, lascia che io vada a troncargli la testa. Ma il re rispose, che ho a fare con voi, figliolo di Terushia? Per cui lasciatelo maledire? Perché l'Eterno gli ha detto, maledice Davide, e chi può dire, perché fai così? E poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi servi, ecco mio figlio, che è uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita, e a maggior ragione, quindi questo bene ha venita, lasciatelo stare, lasciate che maledica, perché glielo ha ordinato l'Eterno. Forse l'Eterno vedrà la mia afflizione, e l'Eterno mi farà del bene in cambio delle sue maledizioni di oggi. Così Davide e la sua gente continuarono il loro cammino, anche Shimei camminava sul fianco del monte di fronte a Davide, e camminava facendo, lo malediva e tirava sassi e lanciava polvere, e il re e tutta la gente che era con lui arrivato a destinazione, stanche, e là si raunarono. Riusciamo a immedesimarci in questo racconto, riusciamo a immaginare quanto fosse disperato Davide, il re Davide, dopo un affronto simile, con accusi di questo genere, scellerato, uomo sanguinario. Allora intervenne, vediamo Abisai, figliolo di Seruia, che disse a Davide, perché questo cane morto osa maledire il mio signore? Ti prego, lasciami andare a mozzargli la testa. E questo fu sicuramente un momento di grande tentazione per Davide. Davide aveva la scelta tra venticarsi o lasciare tutto nelle mani di Dio. Consiglieri come Abisai non sono rari al giorno d'oggi, ci incoraggiano a non tollerare gli affronti di alcun genere e a riparare con la stessa moneta. Però vediamo qui la grandezza di Davide nel suo modo di reagire alla maledizione di Simei. Inoltre comprendiamo anche il pentimento di Davide per il suo peccato. È stato veramente autentico. Nei versetti 10 e 11 ci fanno capire che Davide aveva accettato quell'umiliazione come proveniente da Dio. Si piegò e aspettò che lui facesse giustizia. Davide non restituì il colpo, non fu offeso o dirato. Accettò l'umiliazione voluta da Dio. Che atteggiamento esemplare. Gloria al nome del Signore. Come vedremo poi più avanti, il Signore stesso intervenne e Simei chiese in seguito perdono a Davide. Penso che si tratti di una bella lezione per tutti quanti noi che dovremmo prenderne atto e imparare da questo. Quindi se rinunciamo in qualche modo a fare giustizia da noi, il Signore un giorno ci farà giustizia a lui e non ci deluderà sicuramente. La nostra natura umana ci porterebbe a ripagare il male subito quando veniamo feriti, offesi o ingannati. Ma il Signore ci dice lascia fare a me, ti farò giustizia io a suo tempo. E se siamo consapevoli di questo sicuramente stiamo più in pace con noi stessi. Penso che tutti quanti noi ci siamo trovati in una situazione del genere. O abbiamo offeso noi gli altri o siamo stati a nostra volta anche offesi e feriti. Ma se siamo consapevoli dobbiamo ammetterlo e andare incontro a chi abbiamo ferito anche se non è affatto facile. Chiediamo aiuto a Dio e Lui sicuramente ci aiuterà. Io voglio raccontarmi una mia testimonianza. di molti anni fa. Sono stata molti anni fa ferita da un mio parente. Mi avevo offesa per motivo dell'Evangelo posso dire. E ci ho voluto non un po' di forza ma molta forza per andare. E per poi alla fine sentirmi dire dalla moglie questa visita non è stata gradita. vi assicuro che per me è stato veramente un affronto molto grande. Sono stata molto ferita ancora di più, umiliata. Sono uscita da quella stanza proprio con il pianto nel cuore. Sono stati giorni dure da passare. Non ci potevo pensare. Mi sono sentita veramente male. Però pochi mesi dopo è successa una cosa molto molto tragica. Questo mio parente è venuto meno. E vi assicuro che non me ne sono pentita di quella visita. Il Signore mi aveva dato possibilità di vederlo, di salutarlo per l'ultima volta, di vederlo in vita. E ho potuto veramente riepacificarmi con lui. E la mia anima ho avuto riposo. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Santo nome Gesù. Non indugiamo a fare un passo del genere per riepacificarci. Perché potrebbe essere troppo tardi. Infatti nella Bibbia sta scritto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Ma ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo. Alleluia. Ritornando al re Davide possiamo vedere che lui era veramente consapevole dei propri aggiori e dei propri fallimenti. Persone che si sono umiliati e a cui è stato perdonato normalmente sono persone misericordiose e pronte a perdonare a loro volta. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Davide teneva molto al suo rapporto con Dio. Egli voleva agire nel modo più gradito a Dio. Se in una determinata situazione noi curiamo il rapporto verticale con Dio reagiamo in modo giusto anche nel modo orizzontale. Cioè saremo in grado di perdonare altre persone perché anche noi siamo stati perdonati. Una persona orgogliosa è difficile che perdona. Ma chi non riconosce i suoi fallimenti e pensa di essere a posto sarà spietato nei confronti degli errori degli altri. Il nostro uomo naturale vorrebbe punire, vendicarsi, sapersi risarcito. Ma questa non è la via di Dio. Ed è questa una grande fortuna per noi. Altrimenti dove saremmo noi stessi se Dio agisse in questo modo con noi? Sulla croce Gesù Cristo ha ottenuto la nostra giustificazione. Egli ha preso il nostro posto. Ha resistito alle nostre tentazioni. Egli si è caricato del male di tutto il mondo. Ha fatto le nostre sofferenze. Quanto è stato alto il prezzo che lui ha pagato per noi, che crediamo in lui? E' riuscito a soddisfare la giustizia di Dio. Ha distrutto completamente il potere di Satana, del peccato e della morte. Che tipo di seguaci vorremmo essere noi? Alleluia, gloria al Signore. Gesù ci perdona completamente, incondizionatamente e immediatamente. E Dio si aspetta che noi facciamo lo stesso come i suoi figli. Alleluia, gloria al nome del Signore. In Efesi 4.32 sta scritto «Siete invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandomi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Comunque questo argomento del perdono è un argomento molto importante e molto trattato nel Vangelo in lungo e largo. Ci sarebbero molti passi da citare.